Mico Italia con i marchi elicenti di Nair è oggi un polo industriale di primaria importanza, specializzato nella ventilazione civile, industriale e impiantistica. Presso la sede di Lonato del Garda viene infatti progettata, ingegnerizzata e realizzata l'intera serie di prodotti che vengono poi distribuiti in tutto il mondo. La qualità dell'aria che respiriamo è un fattore assolutamente fondamentale per il comfort abitativo, ecco perché Mico Italia si prende cura della realizzazione dei propri prodotti. Per poter realizzare dei sistemi di ventilazione meccanica controllata con recupero di calore che garantiscono un'elevata qualità dell'aria e ambienti abitativi sempre più confortevoli, Mico Italia mette a disposizione la serie REC. Mico Italia propone una serie completa di prodotti per quelli che sono gli impianti di ventilazione meccanica centralizzata che possono trovare spazio in tutte quelle che sono le normali costruzioni e abitazioni. Con la serie REC in linea andiamo a coprire quelle che sono le esigenze di unità abitative dai 60 metri quadrati fino ai 120 metri quadrati con installazione in controsoffitto, mentre con le unità REC 280 o 320 possiamo coprire superfici utili fino a 140 metri quadrati che prevedono anche in installazione su più piani. A supporto dei progettisti o degli installatori che affrontano per la prima volta questo tipo di impianto, Mico Italia propone all'interno del suo showroom un impianto di ventilazione meccanica completo per rispondere a tutte quelle che sono le domande di chi si trova ad affrontare queste progettazioni per la prima volta. Grazie ad un sistema di controllo domotico riusciamo a controllare tutte quelle che sono le varie velocità del sistema di impianto in modo manuale o anche in modo automatico sulla base di parametri quali quelli dell'umidità relativa interna, parametro che deve essere controllato per primo all'interno dei nostri ambienti, oppure anche altri parametri legati ad esempio all'emissione di CO2. In questa schermata possiamo fare vedere in ogni istante quelli che sono i parametri termodinamici quali temperatura e umidità sia esterna che ambiente e soprattutto il parametro di efficienza per dimostrare soprattutto durante la stagione invernale molto fredda che i sistemi di recupero progettati da Mico Italia riescono a garantire l'efficienza di oltre il 90%. Negli impianti di ventilazione centralizzati è molto importante, al di là del discorso del solo recupero di calore, tenere sotto controllo molti aspetti quali i consumi elettrici. Mico Italia propone unità di recupero calore che hanno motorizzazioni brushless a bassissimo consumo elettrico, parla intorno dei 20 Watt di consumo durante il funzionamento continuativo, ma soprattutto anche aspetti legati a quello che è il comfort ambiente e quindi l'emissione acustica sonora. Noi con la nostra esperienza diamo supporto agli installatori, ai progettisti e ai professionisti che affrontano questo tipo di impianti per la scelta dei migliori attuatori diffusori di aria in ambiente. La serie REC di Mico Italia risponde quindi alle esigenze di prodotti particolarmente performanti di facile installazione nell'ambito della ventilazione meccanica controllata centralizzata.